ciao a tutti oggi faremo vedere come si effettua l'autolavaggio del boccale del bimbi una condizione in cui abbiamo il boccale abbastanza sporco piuttosto che andarla pulire a mano vi faremo vedere come effettuarlo andiamo a mettere l'acqua all'interno del boccale sino a ricoprire interamente le lame adesso andiamo ad aggiungere un po di aceto bianco e pochissimo detergente per i piatti chiudiamo il coperchio col misurino e facciamo andare il bimbi per otto minuti 100 gradi velocità 6 adesso facciamo andare il bimbi per 20 secondi a velocità 10 stavolta senza temperatura anche perché superata la velocità 6 il bimbi non può scaldare l'autolavaggio è finito adesso andremo a rimuovere l'acqua e a sciacquare il boccale e ad asciugarlo dopo aver sciacquato e asciugato il boccale il risultato sarà questo autolavaggio del boccale del bimbi grazie e alla prossima ricetta Autolavaggio del BIMbi Grazie a tutti.